Questo è Davide, ed è un formatore che ci tiene ad essere compreso e apprezzato dai suoi corsisti. Questa è Caterina, ed è una coach che vuole semplificare le sue sessioni di coaching. Invece Pietro tiene spesso delle riunioni e vorrebbe lasciare un segno positivo nei suoi interventi. Per fortuna oggi c'è Il Cinema Insegna, e Davide, Caterina e Pietro possono trovare con un solo clic scene di film per dare risalto ai loro messaggi, catturando l'attenzione del pubblico e facilitando il loro apprendimento. Grazie al motore di ricerca possono trovare scene già tagliate e commentate su tutti gli argomenti di crescita personale e professionale. Davide, Caterina e Pietro oggi sono molto soddisfatti perché risparmiano tempo, sono più efficaci con la loro comunicazione e motivano il loro pubblico all'apprendimento e al cambiamento. E soprattutto, imparano in prima persona con lo straordinario potere dei film.